Rosso ormai ha un passo, giallo rosso ormai ha un passo, che tipo di valutazione si fa all'indomani di quello che è stato definito dallo stesso Di Maio come un plebiscito? Sì, intanto faccio notare che c'è stato un grande livello di partecipazione sulla piattaforma Rousseau e degli 80.000 partecipanti, l'80% ci ha chiesto di iniziare questo percorso. Il percorso è che noi avevamo già messo in preventivo, già durante la campagna elettorale, nel senso che avevamo detto che se non avessimo avuto la maggioranza, quindi il 40% per poter governare da soli, avremmo in qualche modo chiesto alle altre forze politiche di sottoscrivere con noi i nostri punti di governo. Con che stato d'animo ha votato? Diciamo che è stata una votazione molto meditata, questo sicuramente, dal mio punto di vista hanno pesato molto le parole di Beppe Grillo, che è il fondatore del movimento, che ci ha indicato un po' la via. Poi a ratifica del voto ci sono espressi l'80% dei nostri iscritti, che ovviamente loro hanno la prima e l'ultima parola. Adesso con il PD, rapporto spianato, comunque avete paura di quelle distanze che comunque hanno pesato in altri momenti, distanze che poi in effetti c'erano anche con la Lega quando è iniziata l'esperienza giallo-verde. L'auspicio è che ciò che verrà fatto di buono a livello nazionale abbia ricadute anche a livello regionale, dove non sono mancate ovviamente le differenze in questi cinque anni. Quindi come si delinea quest'ultimo scorcio di legislatura? Vorremmo e ci piacerebbe che i temi che vengono portati avanti a livello nazionale entrino appunto nell'agenda politica, anche se sono gli ultimi quattro mesi a livello regionale. Noi abbiamo chiesto spesso di dismettere la politica degli inceneritori, per esempio delle trivelle. Da questo punto di vista, insomma, Bonaccini non ci ha voluto sentire. Noi però sono temi che abbiamo riproposto a livello nazionale e che continuiamo a portare avanti.